Il senso dell'incontro di oggi è stato quello di fare una ricognizione sul come i nostri processi educativi recepiscono le tematiche inerenti all'ambiente e la sostenibilità variamente declinata, ambientale, sociale ed economica. L'obiettivo è quello di scambiarsi elementi di conoscenza sul come, a partire dall'agenzia regionale, ai comuni, alle scuole, quali esperienze sono in atto e condividerle, riflettere sul come stanno andando, che cosa va bene e perché, cosa non va bene e perché e quali cose si potrebbero fare e non si stanno facendo. Credo che sia stato un momento interessante di confronto per i partecipanti in termini di conoscenza delle cose che fanno gli altri, ma anche di accumulazione di idee su quello che si può fare. Faremo un report di questo incontro e su quello cercheremo di lavorare per portare alcune proposte all'ufficio scolastico provinciale di Forlì e di Ravenna e per fare in modo che nel prossimo anno scolastico 2019-2020 nella programmazione delle attività scolastiche siano recepiti una serie di incontri che hanno come tema quello dell'ambiente e della sostenibilità.